ciao! ciao tesoro mio come stai? benvenuto a questo nuovo video di ASMR qui nel canale di sascia come sempre ti invito a dare like a 3000 like il prossimo video in italiano quindi like 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 e come sempre ti invito a dormire molto molto bene io pago o pago io che vuole oggi vengo a darti un massaggio virtuale rilassante nella tua testolina nei tuoi capelli quindi rilassati metti le cuffie e iniziamo questo nuovo video ciao! come stai? oggi voglio farti la sola per farti dormire molto molto bene ma soprattutto sono qui oggi per coccolarti coccolarti ti invito a chiudere gli occhi e immaginare che passo piano 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 con le mie mani sulla tua testa e ti aggrezzo i capelli e ti faccio un massaggio rilassante passo piano 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 sopra la tua testa senti come passo le mie mani per il tuo viso mi prendo cura di te io avro cura di te e ti farò guarire sai come la canzone dei miei dottoni io avro cura di te e guarirai in questo momento detto le tue malattie e soprattutto di ogni tuo pensiero negativo perché sono qui a coccolarti a farti dormire a farti addormentare mentre mentre ti faccio questo massaggio nei capelli della tua testolina quindi oggi le mie mani ti faranno guarire e ti faranno dormire presto 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 dormirei subito ma soprattutto e e starai più sereno più tranquillo perché perché ti faccio stare bene perché ti faccio stare bene perché ti faccio stare bene ti faccio stare bene e attraverso che 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 formicoli formicoli dove sta? formicoli 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 immagina che accarezzo la tua faccia accarezzo quel bisino così bello che hai ti faccio sodare bene 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 ti faccio tante tante goccole manco la tua nonnetta mi fa tante goccole come te li faccio io quindi ti io amo goccole ma soprattutto amo farti dormire molto bene e oggi dormirai veloce 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 cantiamo la nina nanna ti canto la nina nanna così vai a dormire subito bello Ti canto la nanna ti canto la nanna nonno 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 ti canto la nanna tante ti canto la nanna ino no, no na na ... no na na no na 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 devi fare silenzio per che la mia persona favorita nel mondo dorme sta dormendo mentre io gli faccio gli faccio e soprattutto gli faccio i capelli non c'è niente di più rilassante che ho massaccio nella testa e molte carezze carezze nei capelli i capelli i capelli i capelli un bacio i capelli 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 i capelli